Questa volta lunedì inizia dalle presentazioni standard che una volta al mese vengono condotte dal Consiglio dei Dirigenti, quindi inizierò da un punto abbastanza inaspettato non solo per me ma anche per voi perché mi è piaciuta molto la citazione che ho letto lo scorso fine settimana su internet, come tutti vengo colpito anche io da citazioni come quella di Jack Ma, lo conoscete il fondatore dell'Ibaba Group, una delle compagnie più costose al mondo, una persona che ha affrontato un percorso in crescita fino ad arrivare l'amministratore di una delle compagnie più importanti ed è quello che ha scritto, la cosa più difficile è soddisfare i poveri, se gli darete qualcosa gratuitamente penseranno che sia una trappola, se gli direte che si tratta di un investimento modesto allora diranno che non si guadagnerà tanto, se le proporrete di investire di più allora vi diranno che non hanno abbastanza soldi, se le proporrete nuovi temi vi diranno che non hanno esperienza, se le direte che si tratta di business tradizionale allora vi diranno che è difficile da sostenere, se le direte che è un nuovo modello di business vi diranno che è una piramide, se le proporrete di aprire un negozio vi diranno che non sono liberi, se le direte di iniziare un nuovo business vi diranno che non ci sono le prove che il business andrà bene, i poveri sono accomunati da un'unica cosa, amano cercare su google dare ascolto agli amici, quelli poco affidabili come loro che vivono col dubbio, peggio che un docente universitario e fanno meno di un cieco, vorrei che a queste persone chiedesse cosa possono fare, non vi risponderanno, le mie conclusioni, invece che avere la tachicardia perché non scegliere di agire più velocemente, invece che vivere nel dubbio perché non mettere in atto quello a cui pensate, i poveri sono sfortunati a causa di un'unica cosa, trascorrono la loro vita in attesa, proprio questo è un inizio abbastanza non previsto, vorrei inoltre soffermarmi su un pezzo di questa lunga citazione, perché non fare quello a cui pensate, io aggiungerei quello che sognate, quello a cui puntate, quindi vorrei raccontarvi di quello a cui noi pensiamo, mi riferisco a quelle persone che sono tanti anni con noi ormai che sviluppano il progetto insieme a noi, senza le quali la vita del progetto sarebbe stata in bianco e nero, mentre ad oggi lo sviluppo del nostro progetto è abbastanza luminoso, attivo ed è sicuramente collegato quindi al nostro progetto. Il nostro progetto, se definirlo in breve, è un classico venture business in uno dei più proficui dirizzi nel mondo delle applicazioni di telefonia business e noi ci siamo posti in realtà a un compito veramente ambizioso, entrare con i nostri prodotti nel mercato delle applicazioni di telefonia, lì è bello globale, non semplicemente entrare ma occupare un posto tra quelle che sono le compagnie citate su questa slide più famose, attirando un'attenzione simile. Questo compito è abbastanza ambizioso perché gran parte dei progetti che sono qui indicati e che ad oggi sono presenti nella sfera dell'alta tecnologia e delle applicazioni mobili fanno riferimento a fondi per investimenti molto molto grandi, a persone che possono selezionare degli specialisti della Silicon Valley, mentre noi non ci siamo mai basati su fondi, su specialisti della Silicon Valley. Noi da una semplice idea del 2016 abbiamo creato ad oggi e abbiamo portato a completamento il nostro sogno. Vi racconterò della nostra applicazione e vorrei sottolineare in primo luogo che ciò di cui parlerò ad oggi non è un'idea aleatoria su un futuro non prossimo, ma ciò che noi diciamo e quando diciamo futuro esso è già arrivato. Parliamo di 130 milioni di euro investiti nel nostro progetto, 36 milioni di utenti, una stima di quasi un miliardo avuta a febbraio e ci troviamo a quella che è la tappa conclusiva di qualsiasi progetto venture che ha attraversato anche momenti abbastanza negativi ma ci siamo riusciti. Jamspace quindi non è semplicemente un'applicazione di telefonia, è una super app, un'applicazione dove gli utenti in un unico posto possono ricevere una grande quantità di funzionalità, di servizi grazie ad un funzionale che assiste i nostri utenti. Ciò che è iniziato nel 2016 è quindi la creazione di questa applicazione sulla base di un messenger dal nome Jam4Me e vorrei ricordare come sin dall'inizio quando abbiamo iniziato a crearla abbiamo sempre detto che non avremmo poi creato un semplice messenger perché ad oggi non serve a nessuno, i messenger sono già abbastanza ad oggi che avremmo creato un qualcosa di unico ma per questo dal 2017 al 2022 abbiamo apposto tutti i nostri sforzi per la creazione di un funzionale che possiede tutte le funzionalità di un messenger ma non solo non tutti i messenger hanno infatti un funzionale che includa conferenze, streaming, canali pubblici e privati catalogo dei canali, piattaforma delle notizie, chat di gruppo individuali, possibilità di fare chiamate audio e video mi ripeto quindi capisco che avremmo dovuto abbiamo capito da subito che avremmo dovuto fare molto di più per rientrare nella classifica delle applicazioni top al mondo quindi abbiamo creato dal scorso anno un funzionale veramente alto che ci differenzia da quelle applicazioni come i messenger sono le communities o anche gli spazi in italiano, le transazioni monetarie, la vendita di servizi e merce nel space le chat bot, la piattaforma pubblicitaria e non sono semplicemente evidenziati in un diverso colore ma ho inserito anche il simbolo del dollaro, questo significa che qui vi saranno dei flussi monetari e i flussi monetari in qualsiasi applicazione simboleggiano che l'applicazione costi maggiormente che valga maggiormente rispetto a chi è un semplice messenger, ecco quindi Jamespace la nostra super app ed è quello che ad oggi noi promuoviamo ed è ovviamente un funzionale unico la cosa più importante ad oggi in questo funzionale sono gli spazi personali e collettivi, le communities o anche gli spazi in italiano per la risoluzione di qualsiasi problema, questione riguardante l'utente di oggi e riguardo al funzionale abbiamo sicuramente la comunicazione, l'istruzione, scambio di flussi informativi come foto, video, notizie, abbiamo creato tutto questo in un unico posto per far sì che i nostri utenti utilizzino nella maniera più comoda il nostro prodotto, contemporaneamente in un unico spazio è sicuramente un'innovazione perché sicuramente anche cercando a lungo su internet non potrete trovare un'applicazione con un funzionale del genere, è sicuramente un'unicità, un'innovazione è molto più accattivante come super app per gli utenti, per gli investitori e per gli acquirenti dell'applicazione perché lo scopo principale, quello che noi facciamo è sicuramente creare un'applicazione dove vi saranno tantissimi utenti, flussi monetari e tutto questo speriamo che si possa quindi vendere facendo ricevere ai nostri investitori una ricompensa degna vorrei inoltre aggiungere che la nostra Jamespace non è l'unico prodotto la seconda applicazione che creiamo contemporaneamente si trova ad oggi ad una fase di sviluppo diversa intermedia rispetto a Jamespace ha comunque un grande potenziale perché ha i seguenti punti e l'alta richiesta di marketplace ormai da tempo ma sicuramente dagli ultimi due anni che sono stati interessati dalla pandemia molti hanno capito che gli acquisti online di merci e servizi sia una cosa abbastanza sicura, economica e piacevole confluiscono in essi dei flussi monetari veramente alti ha un alto costo rispetto che alle applicazioni per la comunicazione sicuramente vi è un potenziale da parte della nostra squadra per la creazione di questa seconda applicazione poiché dal 2017 abbiamo ormai passato di tutto insieme alla nostra squadra e per questo abbiamo capito di poter realizzare di tutto cerchiamo inoltre di inserire quelle che sono le caratteristiche di Jamespace alcune delle caratteristiche parte del funzionale di Jamespace in Gemmarket ciò che riguarda la comunicazione ed è ciò che non è presente in nessun marketplace ad oggi sono sicuro che la seconda applicazione che noi creiamo contemporaneamente e che verrà quindi incentivata dopo la vendita della prima applicazione avrà un futuro veramente luminoso quindi mi ripeto come ad oggi ci troviamo alla quarta tappa conclusiva dello sviluppo del progetto e la tappa di espansione globale in seguito avremo la quinta tappa ed ultima una tappa abbastanza tecnica che riguarda le trattative con gli acquirenti e l'uscita dell'applicazione e il lancio dell'applicazione secondo il nostro modello principale per far sì che tutti i nostri investitori ricevano il profitto in base alla quantità di pacchetti di azione per far sì che tutto avvenga in maniera legale sicura da quest'anno abbiamo lanciato un nuovo schema giuridico che include il fondo della compagnia proprietaria della proprietà intellettuale basata sulle Mauritius e dove oggi vi sono diversi settori dell'economia mondiale e da questo appunto si possono avere diversi vantaggi poiché molti progetti venture lavorano proprio in questo modo e la nostra unità principale è il Trade Investments Fund è un fondo per investimenti classico con licenza finanziaria e saranno incluse 40 milioni di quote o azioni e in questo fondo verranno trasportate tutte le azioni della nostra compagnia precedente Gen4Me Market Space niente verrà perso e i nostri azionisti riceveranno i pacchetti di azioni che hanno attualmente e per la conclusione del nostro progetto sicuramente sarà necessario vendere anche qualche altro pacchetto di azioni per la conclusione per la conclusione quindi del progetto abbiamo più di 20-24 milioni di azioni per la ricezione da parte dei nostri azionisti della ricompensa sono rimaste circa 16 milioni di azioni le azioni che ci serviranno per il completamento del progetto GenMarket e parte degli azionisti di oggi secondo le condizioni di cui vi racconterò alla fine del mio intervento potranno ricevere parte di azioni gratuitamente per la conclusione del progetto per far sì che essi ricevano il proprio profitto con l'utilizzo del fondo per gli investimenti con licenza si hanno sicuramente diversi vantaggi rispetto alla situazione precedente abbiamo ad oggi una quantità garantita di azioni per la conclusione del progetto possiamo attirare investitori qualificati privati, istituzionali perché questi investitori capiscono benissimo ciò che significa fondo per gli investimenti ed è tutto citato nel memorandum obbligatorio per qualsiasi fondo per gli investimenti secondo il quale possono essere presi in maniera più facile delle decisioni e sicuramente la struttura di questo fondo è più accattivante per gli acquirenti che hanno iniziato già le trattative e che partecipano alle diverse vacanze aziendali e alle nostre trattative e concludendo il mio intervento dedicato al nostro business vorrei dire come noi abbiamo creato un prodotto unico per il suo funzionale abbiamo una nostra personale squadra con sei anni di esperienza non solo sviluppatori non solo esperti di marketing ma anche squadra includenti investitori siamo una struttura giuridica accattivante abbiamo una struttura giuridica accattivante abbiamo più di 36 milioni di download e una stima di quasi un miliardo tutti i presupposti per un completamento di successo e se racconterete questo alle persone povere sicuramente vi diranno che non è così e che sicuramente loro sanno come fare siamo sicuramente coloro che non si relazionano ad essi grazie mille per l'attenzione